Un incontro molto partecipato e penso che questo sia uno dei risultati positivi, insomma, che vi fa piacere. È emersa una grande comprensione, potremmo dire, da parte dell'autorità portuale, da parte del Comune, eppure però i commercianti nel corso di questa riunione, più di uno ha detto ma noi a settembre non ci arriviamo, e allora che cosa si fa? Allora, come ha detto lei, giustamente il segno della grande partecipazione è una soddisfazione per noi che abbiamo voluto questo incontro, ma è anche il segnale evidente di una situazione di insofferenza assai pericolosa e avanzata. Da questo tavolo oggi è emersa una grande disponibilità sia da parte dell'amministrazione comunale che degli altri attori presenti, quindi Port Mobility, Autorità Portuale. L'altra realtà evidente che è nata dalle risposte e dalle reazioni, direi, immediate della platea è che ormai siamo abituati da anni ad avere questi incontri, sia con le diverse amministrazioni comunali che con le diverse realtà portuali e purtroppo nonostante anche in passato ci fossero state sempre grandi aperture e grandi disponibilità, ci troviamo oggi ancora a parlare di problemi che hanno radici lunghe negli anni. Quindi il senso di questo primo incontro, perché secondo noi deve essere l'inizio di un percorso è sicuramente quello di aver poggiato le basi per una immediata apertura di alcuni, chiamiamoli tavoli, anche se questa cosa mi piace poco perché di solito quando si aprono i tavoli non si conclude mai nulla, ma comunque di apertura di alcune trattative, una con il discorso del coinvolgimento della Port Mobility e di autorità portuale con l'assessore Adantò che se ne fa carico per risolvere il problema soprattutto immediato del navettamento e della gestione dei flussi croceristici e degli equipaggi, dall'altra con l'assessore all'urbanistica Pantanelli e con la presidente della commissione commercio, la signorina Bagnano, per istituire ovviamente una conferenza di servizi anche lì in tempi assolutamente stretti con sovrintendenza e altri attori aventi titolo a partecipare per redigere un nuovo regolamento finalmente condiviso che sarà poi secondo me attuabile soltanto da gennaio 2016 se cominciamo a sbrigarci. La stagione estiva però già è iniziata, i commercianti vogliono risposte rapide e chiare, se questi tavoli, lei non li vuole chiamare così, se questi incontri, queste riunioni non dovessero produrre risultati immediati che cosa si fa? Se nell'immediatezza della prossima settimana non ci saranno risposte plausibili e concrete sarà poi l'assemblea che andremo a riorganizzare successivamente a decidere passo dopo passo quali iniziative di protesta a questo punto perché una volta che ha fallito, se qualora dovesse fallire la diplomazia sicuramente ci saranno delle forme di protesta diverse che però ripeto io in questo momento non sono in grado di identificare perché sarà l'assemblea a stabilire quale percorso percorrere appunto.